Serve con urgenza un piano di prevenzione e nuove assunzioni. Il Si salvi chi può è inaccettabile nel 2023. A puntare il dito il coordinatore regionale del sindacato USB dei Vigili del Fuoco, Carmelo Barbagallo, che andiamo ad ascoltare. Le denunce che questa organizzazione sindacale negli anni ha fatto, cioè quelle della mancanza di prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio, ancora una volta si dimostrano veritiere. I campi fregai hanno evidenziato come manco un piano di prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio per quanto riguarda il rischio sismico, il rischio vulcanico, il rischio incendi e il rischio idrogeologico. Per quanto riguarda il dispositivo di soccorso, le problematiche rimangono invariate se non peggiorate. Noi chiediamo nuovamente al Governo, al Dipartimento e a tutti quelli che quotidianamente si prendono il gioco dei Vigili del Fuoco, perché di questo stiamo parlando, di attuare il piano assunzionale per rimpinguare gli organici e soprattutto di mettere in sicurezza il nostro territorio, perché il si salvi chi può, non può e non deve esistere nel 2023. Noi come organizzazione sindacale non ci fermeremo e continueremo a denunciare le nefandezze per quanto riguarda il dispositivo di soccorso, ma vogliamo che le nostre famiglie e i nostri figli siano sicuri nelle scuole, siano sicuri nelle nostre città, perché ci vuole un piano di prevenzione per tutte quelle problematiche che abbiamo avvenzato, cioè rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio incendi e rischio vulcanico. Pertanto mettiamo le mani in tasca, cari politici, perché i cittadini pagano le tasse, le nostre famiglie e i nostri figli devono stare sicuri nelle scuole e nelle nostre città. Noi dal nostro canto come Vigili del Fuoco ripetiamo e ribadiamo, siamo un bene socialo e siamo un corpo che non deve essere tagliato, ma deve essere incentivato, così come tutte le altre forze dell'ordine.